Si sono chiuse oggi alle ore 12 la presentazione delle liste elettorali collegate ai candidati sindaco dei quattro comuni blei che saranno chiamati al voto alle prossime amministrative del 10 giugno. Ragusa, Modica, Comis e Acate si preparano all'ultimo mese di campagna elettorale intensa e combattuta. A Ragusa valverdi nomi che circolano nelle liste dei candidati, nomi eccellenti, qualche sorpresa e come previsto tantissimi candidati al Consiglio Comunale, oltre 600. Tra le novità sicuramente i tre assessori designati da Peppe Calabrese, che insieme alle liste di supporto ha indicato Tonino Solarino nella sua squadra assessoriale. E ancora l'architetto Giuseppe Cucuzella, ex presidente dell'Ordine degli Architetti, e Massimo Vitale, nome conosciuto nel mondo calcistico ragusano. Novità anche in Casa 5 Stelle, svelati infatti i primi tre nomi degli assessori dell'eventuale giunta targata Antonio Tringali. Si tratta di Gaetano Accardi, docente di lettere dell'Elicio Classico Cittadino, Emanuele Nicosia, farmacista, e Gianluca Formichetti, avvocato ed esperto in diritto amministrativo. Presentato anche il terzo assessore designato nella squadra di Giorgio Massari, che ha depositato a Palazzo dell'Aquila le liste Ragusa Prossima, Cantiere Democratico e Ragusa Bene Comune. A Salvo in Gallinera e Gaetano Manganello, assessori già designati la scorsa settimana, si aggiunge il nome del professore Elio Accardi, politico d'esperienza, ex amministratore, per lui si pensa alle deleghe, all'istruzione e allo sport. Non è mancato l'appello presso la segreteria generale della Comune Bleo, la candidata sindaca sono migliore, che ha depositato la lista dei candidati al Consiglio Comunale. 2.0, chiama la città, cambiamola ora, progresso e futuro, ricostruire Ragusa. Nessuna sorpresa nei nomi dei tre assessori designati, Tomasi, Tumino e Sorbo. Grazie a tutti.